Gagagagagagagagagagaga per arrivare nel paradiso delle 99 puttane vergini. Non vedo l'ora di passare l'eternità, a succhiare meloni, e trombare a tutto spiano. Chissà quante fiche ci saranno in paradiso, e che ci do che ci do che ci no, ho già il capitano pronto. Ehi ma, che cazzo succede? Ho la merda negli occhi, oppure vedo solo una foresta di cazzi? Oh, merda, sono finito su un'isola piena di merda. E che cazzo, ma non è possibile. Una sorca soltanto, non chiedo molto, una semplice sorca. Ciao a tutti merda, come va? Spero tutto bene. Allora, come avete potuto vedere nell'ultima puntata, fu bisaltato per aria, a causa del lag, e sono stato risucchiato in un buco nero, che ricordiamo, non è una bella fica, i miei schiavi, nell'attesa che io giungessi nell'oltretomba, mi hanno tributato una bella scritta fiammeggiante, davvero una figata. Come potete vedere, questi animali hanno preso possesso di un'isola, e l'hanno trasformata in un'isola dei Griffers. Nell'isola, è arrivato anche Bin Laden, a Gaga, che visti i suoi precedenti da bombarolo bastardo, è stato risucchiato anche lui dal buco nero, che ricordiamo ancora una volta, non è una bella fica. Purtroppo questi stronzi, si mettono sempre in mezzo al cazzo dell'inquadratura, quindi, se li vedete saltare sullo schermo, siete liberi di insultarli, a Gaga Gaga. Alla, alla, viene a ca. Guardi, guardi, l'isolate in Canada. Alla, alla, vaccaga. Bin Laden è sempre molto chiaro, a Gaga Gaga. Per destabilizzare le menti dei miei schiavi, lascio dei cartelli compromettenti, dalla dubbia utilità. In questo caso, ho lasciato un cartello ozofilo, riguardante i mini pony. Vediamo, che effetto avrà, sulle loro menti narcotizzate, e rincariamo la dose, con la mitica, e ormai famosissima frase, di Lester Gold. Mio figlio poteva morire. Bene, ora che abbiamo fatto i convenevoli di casa, andiamo a vedere cosa hanno costruito questi malati mentali. Dai, fatemi strada, serpenti. Signor Bastoni, la prechi, vengi a vedere la nostra baseggiati. Vivo su Minecraften, da tre giorni, non stop, e cago nella ciotola del cane. Una mia amica, voleva farmi un bocchino, ma io ho rifiutato, perché, dovevo finire di fare la base. Ora scopa con il mio migliore amico, ma io sono felice, perché ho finito di costruire tutto in tempo, a CACACACA. Tu si che sai dare le giuste priorità, alle questioni importanti della vita, a Gaga Gaga. Allora, vediamo cosa cazzo avete fatto qua sotto. Madonna, sembra la tanna di un nerd scavatore, con problemi molto seri. Ma forse l'apparenza inganna, e magari le stanze sono pure fighe. Non ci resta altro da fare, che analizzarle tutte. Siete pronti bambini? Ok, iniziamo con la stanza personale, che mi hanno costruito questi animali da fattoria. Allora, mi hanno creato il porta armature, e delle casse piene di oggetti. Mi piace anche la colorazione del muro, e una specie di biarrea misto granito, con due gocce di rugiada, a Gaga Gaga. Nella cassa, ho trovato anche un cubetto di dinamite. Minchia, si sono sprecati proprio. Avanti il prossimo, next. Adesso vediamo la casetta di pizzipa, o come cazzo si chiama. Pippa, pizzipa, puzza, pozza, pazza, tanto è uguale, a Gaga Gaga. Allora, vediamo vediamo vediamo. Beh, devo dire che l'ambiente non è affatto male. Ovviamente, essendo il padrone assoluto delle vostre luride vite, tutto ciò che c'è nelle casse, diventa automaticamente mio, a Gaga Gaga. Questo posto è infernale, sporco, lurido, e c'è pure la latrina Viet Cong. In chat, chiedo a puzza, cosa c'è là sotto? Immagino ci siano delle puttane incatenate, e non ce le vuole far vedere, a Gaga Gaga, uè, belle fichette, siete là sotto? Sto arrivando con il mio scettro d'oro, no, niente puttane, solo fango e merda. Next, allora, mister clausa 69, è il tuo turno. Vediamo se la tua stanza è massella, oppure puzza di lonza. Minghi, non riesco a entrare, è più forte di me, a Gaga Gaga. Ogni volta che vedo una porta perdo mezz'ora, perché, sono io quel mona che sbatte la porta, e chiude urlando. A Gaga Gaga, troppo bello. Ok basta. Allora, diciamo che la tua stanza è simile alla prima casetta che si fa, quando si inizia a giocare a Minacraffen. È così brutta che non posso fare altro, che esprimere il mio disgusto, tramite un cartello. Mucuna ragazzi, penzola proprio. Prendi il piccone datti da fare, altrimenti sarò costretto a fotterti di brutto. Neeeeext. E per concludere, finiamo con la stanza di Calibal, che mi son già rotto lì pal, a Gaga Gaga. No 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 no, cos'è questa tettoia di fango e merda? Ti piace la merda che ti cola sulla testa? Cambia il soffitto, che fa cagare il cazzo. Ma poi, dove cazzo è questo Calibal? A Gaga Gaga, non l'ho mai visto, a Gaga Gaga, è morto probabilmente, che cazzo ne so io? Baffanculo, crepate tutti madonna. Venite, venite animali, che ci facciamo un selfie. Un selfie col bastone, ti fa scopare come un mufflone. Ehi ma, che cazzo succede? Brutti o mini sessuali, vi potete leggermente distanziare, che non si capisce dove inizia il mio braccio, e dove finisce il vostro culo. Pronto, coglioni, c'hai nessuno in casa? Non vedete che siamo appiccicati come dei capperotti sotto il banco. Maledetti disturbati mentali, ammazzatevi col gas. Sì, c'hai, c'hai, nazi bastone fotografiche. Ma che bel momento toccante, vaffanculo. Aga gaga, guardate come si prosta lo schiavo Hunter Dragon. Inoltre, in chat, scrive che è uno stronzo. In realtà, non so cosa abbia fatto, e non me ne frega un cazzo, però devo punirlo ugualmente, facendogli mangiare, un bel cubetto defecato dai cani. Proprio per questo, tiro fuori dal mio inventario, un bel dolcetto prelibato, tutto da gustare. Slurp, slurp, lecca la merda. Guarda, ti faccio vedere come si fa, tiri fuori la lingua, la avvicini al profiterols, e lecchi senza pietà. Bravo, mangia mangia, è tutta salute. Sì, salute che se ne va, aga gaga gaga, adesso, facciamo un bel giochetto. Il gioco si chiama, lancio una freccia in aria, vediamo chi è lo stronzo che se la busca in un ginocchio. Sono sicuro che vi piacerà. Avete visto che bello? Allora si parte. Siete pronti? 3, 2, 1, via. Chi perde, dovrà stappare le birre col culo, per tutta la sera. Ed io ho molta sete, aga gaga. Oh my godness, this is fucking incredible, abbiamo un vincitore. Puzza pizza, sei stato colpito dalla freccia. Il tuo culo sarà usato come stappa bottiglie. Godi popolo. Madonna, non ce la faccio più, non c'è nemmeno un chilo di vagina su questa isola. Sono ridotto a pescare le trote, come un vecchio pensionato bastardo. Ora provo a chiudere gli occhi, e a contare fino a 6592, speriamo funzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tanti like per capo bastone, aga gagaga.